Siamo in tantissimi Siamo in tantissimi Siamo in tantissimi Siccome quelle salse erano una merda Perché non erano un cazzo di piccante Abbiamo deciso di prenderne altre due Vi starete chiedendo Il ritorno del piccante Così a bruciapelo Doveva essere un po' diverso Ma grazie Amazon e grazie Corriere che passi quando hai voglia Questo naturalmente non c'è scritto Perché è stata donata da Bria Ed è la Scorpion Ovvero noi siamo andati a leggere su internet Perché la Scorpion Già inizia Guarda proprio una magia La Scorpion E poi siamo con la crema Il peperoncino più piccante della vita Il Caroline Riep Carolina 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 Scusi che non hanno le bollicine d'aria Questo non è il sole Muncha ma sei tutto bagnato Ma che cazzo fanno Perché abbiamo i guanti Perché l'altra volta Facciamo schifo i piccanti Che abbiamo preso Però a sto giro Abbiamo queste salse Che se le tocchiamo a mani nude Moriamo Che cosa succede? Oddio Aspetta aspetta Ma perché? Dai iniziamo a salsare Comunque perché i guanti Perché c'è il rischio Che la salsa possa bruciare Ci bruci la vita Le mani Allora Partiamo con la Scorpion Che è più o meno 2 milioni Sul Scusi Ma che è più o meno 3 milioni Però è più o meno 3 milioni Ma va Vai Vai Sì Dai Ma chi è? La faccia del cazzo No zio Stai male Ma quando respiro e mando giù È una morte No raga No raga è forte Sputami in faccia Tu che ho il piercing Che mi si sta spostando Le mie labbra Ma tipo questa era la più piccante al mondo No l'anno scorso lo era Quest'anno Quella Voglio assaggiare anche la nuova Pucci Non avete il pane Sto piangendo Più che altro sai cos'è Sono le labbra Cioè Ormai non ho più il cazzo Io qua Scusi Mi hanno stomaco Mi sento Pizzare di brutto E quello Quanto è più forte? È 200 mila in più Quanti? Me ne vado Prendo il mio posto Sai che è la visura del balcone Mi le puoi buttare No no porco diaz Porco diaz Perché è assoluta una botta? Scusi è più muovo il pesce Che più il bruno Quello è fresco È una delle cose più brutte Che abbia mai provato in più da mia È passato un po' di tempo Perché ci dovevamo ripigliare La salsa è questa Il cucchiaio è questo Quanti? Oh il guarno Ma qua dietro è tutto negro Oh i guarni Perché no? In questo momento Questa è quella che detiene Il video Eh sì vabbè No Come prima Come prima Come va bene Facciamolo insieme Minchia Va lui cazzo Dai No dai No dai Prendere l'altro Tu che è io No raga In teoria deve essere la più forte questa E vai Mi ha detto che stai un po' a parte Mi ne ho appoggiato No no Porco Chi ha sto cazzo di gelato Oh Ma sei fuori Affanculo la prossima volta Mi ne sto a cadere Si espande dopo Oh eh Guarda che mi ha sposto la mano Guarda che mi ha sposto la mano Poi la fai Qua qua C'è l'atto Guarda dove è Oddio la butta La butta alla lì Guarda che mi ha mangiato più Non vuoi clicare sul gelato Censura No madonna raga Io vado a fermare l'ambulanza Si però Il caldo è pazzo di blu Dai ragazzi Subito adesso Adesso No 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 Ora vieni Aspetta che ti faccio così Si ma aspetta Sei pazzo Si Daniel ha sviluppato L'anti 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 Ti lasciamo qua sul ciglio Della strada Com'è? Non ti toccare con quelle mani Ma tu lo devi fare 3 2 1 1 Aspetta No 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 Che cosa stai facendo? Dai 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 T'ho ungoiata Ragazzi Adesso Comunque c'è da dire che è forte A te la dura meno Sì, no, no Questa dura molto di più Ha vinto questa Sì, ha vinto quella E faice Alleluia Alleluia Facciamo un sunto Il detto che abbiamo provato le due salse più piccanti Sulla faccia della terra E stiamo morendo I nostri ospiti ora ci danno il loro parere Allora, allora, inizio io Corpion è la più forte Secondo me, secondo me Appena l'ho preso volevo buttarmi Dal balcone Io ho la copia Anche per me è stata la scopio È stata questa Bruzione di labbra L'unica cosa, l'unica cosa Che si chiama questa? La carolina Non la senti così tanto forte come l'altra Però ha i brucioli di stomaco Poi non so Se è perché ho lo stomaco vuoto O altro Però sicuramente questa qua Da mangiare è nannetta E invece voi? Però non testa Invece io direi che Questa ti ammazza Cioè io adesso mi sta tornando un bruciore di stomaco Sto al seduto Dove stai in piedi Allora, diciamo che Questa qua La scorpion Più che altro È forte all'inizio Ah sì, ti tira una botta Cioè la senti subito all'inizio Però a differenza dell'altra Si è lasciata andare abbastanza subito Questa qua invece L'assaggi E comunque Cioè hai subito la botta Poi si calma No Poi ti ammacci E' vero Ha ragione Perché a tratto si calma E poi Poi ti tira una botta Che Poi Chi è? Un attimo Ho capito Comunque Io con questa qua Ho scoperto Cosa vuol dire Fare del sesso orale Con satana Eh Fatela una cosa Ok lui ci abbandona Perché è colpa vostra Direi che questa qua Rimane centrale Perché comunque Ha colpito entrambi E questa qua Si è piaciuta Quindi io direi che La scorpion Rimane la più forte E la riper carolina Carolina rimane Comunque In un secondo Carolina è in calabrese Ragazzi Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Sto morendo No 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 Si lui ci saluta Ci vediamo al prossimo video Ci sentiamo Noi continuiamo Ma che è? Ma veramente Tu stai male Mi fa malissimo lo stomaco Vabbè comunque In ogni caso Da un video all'altro È passato praticamente Due mesi Tre mesi Quel che è Si sono già le 11 Ma vuoi la mano? Ma vuoi la mano? Ma vuoi la mano? C'è Ma vuoi la mano? No aspetta Se vomiti ora Ti sarei tu Ma non cagare neanche Ma non cagare prima Se vuoi medita Ma non fare nient'altro Oh ma andiamo a vedere Se sono bisogno di aiuto Scrolla è morto Scrolla È arrivato Scrolla Su le scuole le scarpe Ma lo vuole dire Una fisura definitiva Ok 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 Niente Ti vediamo un po' più indietro Andiamo Scusa è meglio Mi sa che ho caro di pressione ragazzi Dai ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Uuu In bianco In bianco guarda È ritrovato un po' di morti Mettete mi piace e condividete Mettete mi piace e mettete i contenuti Tutti i link in descrizione Saluto Un, due, tre e quattro Ragazzi a voi Uuuuh Scusa 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 Madonna mia Quanto Mi chiedevo Un'ebolia Scusa 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 Scusa